ciao a tutti ragazzi bentornati sul mio canale e benvenuti in questo nuovo video chi mi segue su instagram lo sa già ma abbiamo portato a casa un unicorno quindi intanto venite a seguirmi su instagram mettete like condividete il video iscrivetevi al canale perché in questo momento in officina ci sono in piedi dei progetti ragazzi e tra un paio d'ore vado lasciamo stare torniamo a noi unicorno unicorno ragazzi nissan silvia sbagliato che ma la silvia non mi interessa nissan 200 sx una s13 meravigliosa pazzesca ci metto un po per capire che cosa posso dirvi partiamo dal fatto che questa macchina è stata acquistata nel 1991 da un simpatico signore di udine quindi la macchina è targata italiana con le targhe originali tiro fuori questo perché voglio farvi vedere una cosa all'inizio del video meravigliosa emozionante per farvi capire che cosa abbiamo qui tra noi macchina come vi dicevo acquistata da questa persona nel 1991 e mai venduta questa s13 è unico proprietario la persona che la possedeva adesso 80 anni più di 80 anni e l'ha comprata qualche annetto fa circa 32 anni fa sempre mantenuta come bisogna mantenere una macchina cioè questa persona era veramente appassionata ora non è proprio immacolata perché sei andata a cercare il difettino lo trovate per comunque 32 anni ma io sono scioccato specialmente dall'interno quello che ho qui in mano una cosa che i più giovani non riconosceranno neanche io perché non l'ho mai visto ma è una cosa vecchia 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 che poi non è più esistita già dagli anni 90 si chiama foglio complementare ed è la copia del foglio di quando acquistavate la macchina dove certificavano che la macchina non aveva ipoteche vedete negativo non ci sono ipoteche e il prezzo di acquisto ragazzi questo è il prezzo che il signore ha pagato per questa vettura lire 43 milioni nel 1991 43 milioni sono tanti eh costava tanto e tra l'altro mi raccontava che ha ricevuto un bello sconto perché quest'auto credo che costasse intorno ai 50 milioni all'epoca quindi ha ricevuto un bello sconto vabbè ovviamente abbiamo il classico motore il k18 cosa ho qua da farvi vedere ah cosa interessante per i collezionisti sono riuscito a conservare non so dov'è sono riuscito a conservare a farmi restituire anche il libretto originale quindi ho anche il libretto originale della macchina adesso ovviamente ha quello nuovo le targhe sono quelle originali dell'epoca quindi meravigliose lo passiamo all'interno ragazzi 200 sx con k18 classico 1.8 turbo motore lo conosciamo benissimo ne abbiamo un'altra la a fianco che abbiamo appena finito di rebuildare perché i cani che ci avevano messo sulle mani anni fa hanno fatto un disastro questa invece è tutta originale fuori la vedete bella pulita perché il nostro amico mario 20 miglia ci ha già messo le manine ci ha già dato una passatina e la macchina è veramente bella qui il vano motore ve lo faccio vedere non so se vi farò fare del detailing probabilmente sì ma voglio farvelo vedere così come è arrivata quindi senza averci messo le mani ed è così non c'è una traslutazione di olio non c'è una perdita di olio la manutenzione è sempre stata eseguita regolarmente i tagliandi sono sempre stati fatti regolarmente vi posso dire che non so se dal video rende ma non c'è l'umidità su il collettore vi faccio vedere una cosa la lamiera di protezione dei collettori di scarico guardate in che condizioni non si è neanche brunita questa macchina non ha mai passato i 5 mila giri sospensioni di serie perfette la macchina si guida come fosse un gioiello io l'ho portata a casa ci ho fatto un po di chilometri qui da udine quindi una decina di chilometri e ho acceso l'aria condizionata e funziona dentro non c'è un singolo rumore non c'è un tasto rotto non c'è niente adesso adesso vi faccio vedere quindi come dicevamo k18 depth completamente originale mai mappata mai messe le mani scatole del filtro originale tubazioni le fascette sono cioè questa macchina sempre dormito in garage quando non era in giro pensate che un'altra cosa che per chi è appassionato di questo tipo di auto è la copertura del vano motore credo di averla vista due volte nella mia vita quella paracalore e questo denota veramente che quest'auto veniva tenuta davvero davvero bene bellissima passiamo all'interno così vi faccio vedere in che condizioni è all'interno è il pezzo forte di quest'auto a partire dai sedili guardate i sedili in che condizioni sono calcolate che la macchina ancora da lavare all'interno perché ha bisogno di un bel lavaggio con la schiuma ma lo farò dopo ho tolto i tappetini guardate la condizione della moquette a terra immacolata non sgualcita perfetta un po sporca perché un po di anni ma verrà lavata molto presto mi emoziono guardando questa plancia centrale con una cosa che mi ha fatto sorridere ovvero questa è solo una cosa per chi ha l'S13 la manopola la leva per spostare da caldo a freddo che funziona tutta in tutte le S13 che ho avuto tra le mani questa va va solo un pezzetto non si chiude mai né il freddo né il caldo perché si blocca e resta tipo a metà invece qui lavora perfettamente nota assurda per la radio originale di serie con tanto di cassettino molleggiato meravigliosa devo controllare fusibile c'è qualcosa che non va perché non si accende però c'è la radio originale il pomello originale il volante originale le plastiche sono perfette guardate il cruscotto l'S13 hanno un problema del cruscotto che tende a farle spaccare se non sono bucati dai manometri sono comunque spaccati perché avevano proprio un difetto nel materiale questo è immacolato immacolato il volante un po sgualcito da questi 32 anni ma comunque in ottimi condizioni tutto ciò che c'è all'interno della vettura funziona non c'è un singolo tasto che non funziona a parte la radio probabilmente è un problema di fusibili ma anche sulle porte se voi guardate i tasti delle alza vetro chi se ne intende saprà che questi tasti sono sempre sgualciti consumati spaccati rotti mancanti mentre invece qui è tutto perfetto tutto anche il cassettino perfetto non c'è una singola spia accesa non c'è un rumore lo scarico originale adesso ve la faccio sentire fa molto strano sentire una di queste auto così quello che sentite più che altro il rumore della ventola di raffreddamento con il sistema visco statico che fa casino ma per il resto clacson funziona aria condizionata avete sentito attaccare il compressore raffredda da paura io vi posso dire che guidandola l'ho portata a casa poi ci ho fatto ancora una ventina di chilometri nei giorni a venire è un sogno da guidare ragazzi perché queste auto sono auto che purtroppo negli anni sono state molto svalutate adesso valgono tanto però c'è stato un periodo in cui compravate un s13 con meno di 1000 euro quindi sono le auto per chi tra virgolette non voleva spendere 6 7 mila euro per comprare un s14 o 10 per comprare una skyline e avendola pagata 1000 euro giustamente uno se ne fotteva altamente dei problemi della macchina o di tenerla bene per la maggior parte dei casi quindi il 99 per cento di queste auto che trovate in vendita sono pasticciate modificate tuningate negli anni riverniciate taroccate motore un disastro ragazzi invece questa è totalmente originale totalmente originale mi commuovo perché veramente averla trovato e averla portata via da questa persona che ci teneva quindi non era la classica persona che non sapeva quello che aveva in mano difatti conosceva bene il prezzo di quest'auto ma ci teneva e ha deciso di darla via perché mi ha detto che non si sentiva più sicuro a guidare un trazione posteriore perché non aveva non ha più i riflessi per poter guidare un'auto del genere soprattutto quando piove quindi l'ha voluta vendere prima di rovinarla o di incidentarla cioè pensate ci teneva talmente tanto che ha detto piuttosto la vendo anche se ci tengo e prendo una macchina più adatta a me perché sta andando per i 90 anni vi faccio vedere in che condizioni è l'interno del vano bagagli a piccola nota dolente come vedete qua ci sono tutti questi tappi merdosi che ho messo io lei qui montava il classico alettone che è fatto in spugna esternamente una specie di spugna e dentro ho un telaio di ferro una merda nel 90 percetto dei casi vanno marci lo sto cercando originale o mal che vada metterò qualcosa di simile per per diciamo riprendere la sua linea perché non voglio chiudere i buchi e verniciare il bagagliaio perché non vorrei rovinare l'integrità del veicolo provvisoriamente ho messo sta roba qua vi lascio anche le coperture per farvi vedere in che condizioni era l'alettone e il motivo per cui l'ho tolto cioè ogni volta che aprirò il bagagliaio usciva la ruggine mi sono rotto le palle questo è il vano bagagli ve lo faccio vedere per farvi vedere in che condizioni è questa è la sua copertura originale questo è il compensato originale ruotino di scorta introvabile quello piccolino mai usato nuovo e queste sono le condizioni dell'ammirato cioè guardate i rivestimenti guardate che roba la macchina è nuova ragazzi la macchina è veramente veramente nuova quest'auto purtroppo adesso inizia la parte triste del video triste per me ma non per voi quest'auto purtroppo e quello è un responsabile non so se è già uscito sto video se deve ancora uscire ma quella è responsabile di questa cosa che sto per dirvi adesso ah e prima di dirvi altro guardate i cerchi guardate i cerchi con queste fantastiche gomme marangoni nuove di zecca marangoni lasciamo stare però guardate i cerchi guardate neanche rovinati perfetti su grigio opaco trattati marietto li ha lavati e sono tornati come nuovi ma torniamo a noi notizia triste per me ma bella per voi purtroppo questo veicolo fantastico che io adoro mi sono innamorato l'ho guidato non può restare con me perché in questo momento è la vostra fortuna ho davvero troppi progetti in corso e non posso permettermi di tenere con me questa macchina nonostante mi piaccia veramente tanto ci sta sono tra virgolette costretto in questo momento della mia vita se fosse un altro momento ma ho iniziato altri progetti tra due ore vado a portare a casa un altro progetto c'è quello quello lì che è in corso che non so se voi l'avete già visto ma sto girando una serie pazzesca che hai dietro le spalle e non far vedere non ti girare non ti girare e quindi non ce la faccio purtroppo non ce la faccio portato a casa anche un altro progetto di una skyline che uscirà anche quella sul canale ma sto cercando di registrare le serie e farle uscire solo una volta che siano registrate c'è la gtr in corso ci sono tante cose non posso permettermi un altro progetto soprattutto non posso permettermi anche questo non è un progetto perché questa veramente un olio un filtro la macchina è stata revisionata due settimane fa dal proprietario non bisogna fare niente questa è un'auto che bisogna portare a casa fa la targa oro passaggio di proprietà 200 euro bollo pagato per un anno 25 euro assicurazione 12 euro vi paga lei per per essere posseduta quindi non è una questione di mantenimento una questione che in questo momento questo tipo di investimento non posso permettermelo quindi questa vettura è disponibile per voi non so se l'ho scritto in descrizione nel titolo ma questo progetto andrà a un fortunato è una tela bianca potete portarla a casa stravolgerla completamente avendo una base perfettamente sana da cui partire o come vi dicevo potete farla targa oro tenerla completamente originale e andare a far rosicare tutti quei personaggi che i raduni hanno delle diciamo dei secchi di ruggine cammuffati da auto belle ma che in realtà sono proprio della vera merda e ce n'è veramente tanti a partire da quelli che hanno che si fanno fare le foto con la superaspirata che non ho capito perché fate le foto alle superaspirate è un po' come fare le foto a no non posso dire quello che stavo pensando fare la foto a un calciatore senza piedi una cosa così era più cattiva però poi mi bannano detto questo la macchina è disponibile quindi se volete venire a vederla a testarla sappiate che è qui disponibile per voi nostro amico Mario Ventimiglia ci verrà a lavare l'interno e a rifinire la macchina conservando l'originalità quindi il segnetto quelle cose lì resta così perché non ho nessuna intenzione di riverniciare la macchina è in ottimi condizioni non ha graffi gravi non ha botte dentro è immacolata è veramente bella il motore gira che è un piacere ragazzi la macchina in strada va che è un gioiello e se mi lasciate abbastanza like vi farò la recensione di una vecchia signora nissan di nome 200 sx completamente originale che è una cosa che è difficile veramente difficile da testare quindi vi lascio con queste cose su cui riflettere se state cercando un progetto fico e soprattutto con l'idea che portandovi a casa questo progetto date anche una spinta ai miei che sono purtroppo fermi da un po di tempo non tanto però insomma lo dico per mettere le mani avanti vi ricordo di iscrivervi al canale perché tutti questi progetti tutte queste cose possono continuare a crescere solo se voi ci dimostrate l'amore e il supporto che secondo me un pochino meritiamo e venite a seguirmi su instagram sulla pagina personale e sulla pagina dell'officina angelo nero performance dove trovate il numero di telefono di whatsapp dove non dovete rompere i coglioni tra virgolette ma potete usarlo per contattarci se volete fare un progetto sulla vostra auto indifferentemente di che nazionalità è fargli la manutenzione risolvere un problema avere un consiglio avere una consulenza scrivermi per le auto da importare da vittoria in olanda quindi veramente potete fare quello che volete con quel numero di telefono e siamo qui apposta c'è uno staff apposta per questo vi ringrazio vi chiedo se nei commenti potete scrivermi se apprezzate una vettura così originale e ben conservata da un signore anziano o se preferite una 200 sx stravolta completamente che sgomma per le strade con niente di originale con magari 37 proprietari diversi sul sulla carta di circolazione va bene ci vediamo nel prossimo video e ciao